Emiliano Barzilli, il 27 settembre definirà il titolo europeo contro Giordi Micei. È un pugile molto tosto, già dimostrato nel combattimento contro Zamora? È un buon pugile, ha belle caratteristiche, è un tecnico alto, veloce. Sarà un bel match, l'ho già visto nel match che ha fatto contro Zamora conquistando l'Unione Europea. Ha combattuto bene, ha fatto un bel match, è stato vincente e sarà sicuramente un ottimo test anche questo per andare avanti e per sperare sul Mondiale. Il Magiano non potrebbe essere in una posizione di vantaggio, ha combattuto cinque volte in quest'anno e poi ha affrontato un pugile che è molto più esperto di lui, anche più basso di lui e anche tu lo sei. Certo, sicuramente sarà vantaggio suo, ha pure vent'anni, perciò è abbastanza giovane, ricoverà presto, perciò i match li potrebbe fare ogni mese. Mario Massai, siamo sempre qui nella palestra, insomma, chiamiamo la palestra quella dei fattori. Siamo qua, come vedete pure voi, dobbiamo dire grazie al sindaco che perlomeno ci ha dato l'opportunità di stare qua dentro, perché se no non avevamo neanche questa. Però vorrei un qualcosa, no vorrei, chiederei a qualcuno se magari ci desse una mano per uno stabile un po' più grande, proprio per allenarci, pure perché appunto, ecco, Marzini il 27 settembre deve fare un grande match con un avversario di spessore, dunque, che ha battuto già Zamora, noi conosciamo tutti Zamora che ha un bel pugile e dunque ha bisogno di allenamenti continui. Io purtroppo tra sette e otto giorni devo lasciare Civitavecchia per andare appunto a finire la preparazione di Mirko Larghetti, perché Mirko Larghetti è un altro mio pugile che sta qua a Civitavecchia, ma tra sette giorni iniziamo i guanti, visto che Mirko Larghetti farà un titolo del mondo in Germania il 30 agosto, contro Mark Cook, ed è un pugile che è imbattuto dal 2009, noi ci dobbiamo mettere tutti con l'animo in pace per fare appunto questo match. E devo lasciare per 15-20 giorni Marzini, se avessi avuto una struttura più idonea, sicuramente i guanti si facevano qua dentro, Fragomeni, Vudelia e tanti altri pugili vengono qua a prepararsi per fare i guanti e non ho lo stabile per farglieli. Non ho un ringue idoneo, non ho una palestra idonea per ospitare tanta altra gente.